Domenica 24 maggio si è svolto l'ultimo incontro del tabellone regionale di Serie C. In questo incontro decisivo, ad eliminazione diretta, la squadra vincente avrebbe poi avuto accesso al tabellone nazionale. La squadra del tennis club sale ha affrontato sui propri campi la squadra di antiche mura di Asti, composta da giocatori di classifica ben superiore ai giocatori salesi. Per i quattro singolari, la squadra salesi ha schierato i seguenti giocatori. Marco Picchi, di classifica 3-1, che ha perso con il punteggio di 6-1-7-6, con 7 punti a 5 nel tie-break. Leo Santinoli, di classifica 2-8, che ha perso 6-3-6-3. Lorenzo Boveri, di classifica 2-6, perdente con il punteggio di 6-1-6-0. Andrea Vaggi, di classifica 2-8, perdente con il punteggio di 5-7-6-0-7-6, con 7 punti a 5 nel tie-break. Con il risultato di 4 singolari persi su 4, il tennis club sale perde quindi l'ultimo incontro del tabellone regionale e quest'anno non riesce ad accedere al tabellone nazionale.